Ma come si fa a rovinare tutto così? Perché non sapevo cosa dire, non ha bisogno. Le ragazze rappresentate le abbiamo finita. E allora si va di Hit Me Cupid? Oh, Hit Me Cupid? No. E tu che sai? Io sono occupito. Poi lo sai che in questa casa le regole le faccio io. Cosa vuoi che è succeduta se vado a ballare? Se mi ami devi farmi stare tranquillo. Mi sta mandando in para perché non vuole darmi le password dei soci? No. Non puoi fare l'attrice. Perché? E acquistarle tutte in qualsiasi modo. Quindi che foto hai? Al mare? Qualche viaggio in Spagna? Ci sarà tantissimo lavoro da fare.